Sì, no, non dico no, che quelli due è troppo sì. Allora, questo è l'ultimo che presento perché per gli altri due cortometraggi ci saranno i ragazzi a presentare direttamente il loro lavoro. Ieri e oggi è il cortometraggio dell'edizione, della scorsa edizione, che aveva come tema il rapporto col mondo degli adulti. È il cortometraggio che ha vinto la rassegna dell'anno scorso. Questo è stato fatto dai ragazzi di Oletto, di nostra doposcuola. Quindi buona visione. Grazie.